Come creare un account connesso a Microsoft per Windows 11? Creando un account connesso a Microsoft per accedere a Windows 11, è possibile reimpostare la password o gestire l'account da un dispositivo diverso in qualsiasi momento. In Windows 11, accedere con un account da amministratore. Selezionare il pulsante Avvia, quindi selezionare Impostazioni. Selezionare Account. Selezionare Famiglia e altri utenti. Nella sezione Altri utenti, fare clic su Aggiungi account per aggiungere un utente. Se il nuovo utente non dispone di un account Microsoft o di un numero di telefono, selezionare l'opzione Non ho le informazioni di accesso di questa persona e rispondere a qualsiasi richiesta per completare la creazione di un account per l'utente. Se l'indirizzo e-mail del nuovo utente è connesso a un account Microsoft, immettere l'indirizzo e-mail nel campo di testo, quindi fare clic su Avanti. Fare clic su Fine. Uscire dall'account amministratore. Nell'elenco degli account disponibili, il nuovo utente viene visualizzato con l'indirizzo e-mail associato. Accedere all'account, con la password utilizzata per la creazione dell'account. Fare clic sulla scheda Playlist di YouTube per visualizzare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. 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 Grazie.